Eheh sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo video su come completare le sfide settimana numero 5 e come sbloccare il nuovissimo stile di Tarana, Indaco. Ma come al solito prima di visionare queste sfide, ricordate, inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories. Evitiamo ovviamente le sfide più semplici come infliggere danni con le mitragliette e cercare scatole di munizioni. Guida da sabbie sudate a cascina colossale senza lasciare il veicolo. Potete optare per due opzioni. Uno, utilizzate un veicolo con tanta benzina oppure lo rifornite prima di partire, ovviamente sempre a rissa squadre per evitare che la sfida sia molto più difficile, oppure chiedere a un compagno di portare a meno una tannica di benzina così da rifornirmi durante il tragetto. In questo caso potete anche tagliare tutta la strada e una volta arrivati vi completerà la sfida. Poi abbiamo modifica veicoli con pneumatici da fuoristrada. Se desiderate trovare tantissimi pneumatici ma anche qualche veicolo, il mio consiglio è andate in quel piccolo negozietto dove incontrate il pirata. Lì c'è un piccolo garage dove è possibile modificare le auto, così compiterete questa sfida in pochissimo tempo. Dopodiché abbiamo la sfida mantieni per 4 secondi una velocità minima di 65 o più. prendete una supercar e sfrecciate con il turbo alla massima velocità per 4 secondi. E dopodiché come sfida finale abbiamo quella di volare per 2 secondi o cadere per 2 secondi all'interno di un veicolo. Un po' di materiale, create delle scale abbastanza altine e cadete giù come non so cosa. Che dire pazzo di spero di esservi stato molto molto utile in questo video delle sfide. Noi ovviamente ci vediamo sabato con la nuovissima storia. Un dolcissimo e carnissimo. Hehe.